Buonasera a tutti, io sono Elvira Sacco, sono il presidente della Proloco di Lago. In più sono la delegata provinciale UMPLI ai rapporti con la soprintendenza di Cosenza. Il mio ruolo per quanto riguarda le Proloco fa d'accollante tra tutte le Proloco perché in un momento particolare come questo l'impegno di tutti è molto importante. Come delegata ho curato innanzitutto la partecipazione al bando del Ministero dei Beni Culturali Borghin Festival che purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di essere finanziati. Però il nostro progetto è risultato idoneo quindi mi auguro che i fondi poi verranno stanziati e quindi rientreremo anche in questo percorso. Attualmente stiamo seguendo quello che è l'importante manifestazione del 21 giugno, la festa della musica di cui l'UMPLI nazionale si fa come ogni anno portavoce e anche come UMPLI provinciale stiamo organizzando una manifestazione che riunisce tutte le Proloco del territorio cosentino. Inoltre la novità di quella che è appunto il nostro lavoro è quello di lanciare e di promuovere i cosiddetti tour virtuali. Quindi ci auguriamo che tutti insieme possiamo ripartire e ripartire alla grande. Grazie a tutti.